allora questo video per ringraziarvi a tutti per questo 2021 ricco di risultati importanti I'm so grateful with all of you I know there are many people from all around the world so cheers to having such a long in France this is the result of our 2021 so say 621.000 watch time minus 318.000 total views Simone Amman e questo qui è il video uno dei più popolari i fans più visualizzazioni sono in Italia Germania e Polonia quindi thank you for this year on YouTube thank you for these 3789 likes 122 comments and for your support this year and lifetime highlights are 2554 days means my first upload 6122 lifetime likes 287 lifetime comments so I'm so grateful for your support again one more time grazie a tutti per il vostro supporto buone feste buon anno e bacetti ai pupi anche va ciao